Sergio Agnato, oggi la partita è finita 3-0 per gli avversari, un commento? Allora, è stata molto positiva a confronto a quella di ieri. Sono stati bravi gli avversari e hanno avuto un po' di fortuna più di noi e purtroppo è finita 3-0. Vediamo la prossima di fare meglio. Grazie. Grazie.